Grazie, buongiorno a tutti. È una mattina particolare questo perché ieri c'erano diversi milioni di direttori di HR in America, anche cittadini, che hanno deciso di fare un cambio di personale nel congresso americano. Hanno mandato a casa nella Camera dei Repubblicani e hanno assunto attraverso il voto una maggioranza democratica. Io stamattina vorrei parlare di un momento nell'economia mondiale, nell'economia europea e anche italiana, un momento di cambiamento, un momento di svolto, un momento di incertezza, dipende come uno lo vede. È un momento molto particolare perché in queste ore c'è da parlare non solo delle conseguenze per l'economia e per la politica di quello che è successo negli Stati Uniti negli ultimi 24 ore, ma anche quello che ci attende fra circa 90 minuti. Fra circa 90 minuti a Bruxelles saranno pubblicati alle 11 stamattina le previsioni per la crescita PIL di tutti i paesi dell'Unione Europea. E questo ovviamente rimetterà al centro dell'attenzione la questione italiana. Quindi è un momento di tanti tanti cambiamenti. Cerchiamo di fare una visione globale e poi cerchiamo di fare una zoomata più vicino su quello che accade più vicino a casa. Negli Stati Uniti il fatto che, dal punto di vista dei mercati, della finanza e del business, il fatto che i democratici hanno conquistato la maggioranza della Camera dei Deputati, mentre i repubblicani hanno rafforzato la loro maggioranza nel Senato, è stato salutato da Wall Street con piacere. E' uno cinico, uno che dall'Europa dice ma come le taglie delle imposte di Trump hanno aiutato l'economia americana, ma come l'economia americana gonfia vela con disoccupazione a 3,7%, con crescita forte, per quale motivo Wall Street avrebbe deciso e le borse hanno salutato la sconfitta del partito di Trump nella Camera con un rialzo nel mercato. La risposta, ho parlato anche ieri sera con diversi amici delle banche e delle brokers a New York, la risposta è che pure quei capitalisti, manager e investitori che, come me, come voi, crediamo nel capitalismo, crediamo nel mercato libro, comunque erano sollevati dal fatto che gli eccessi del Presidente americano possono essere contenuti in qualche modo avendo un bilanciamento dei poteri fra congresso e Casa Bianca più equilibrato. Questo non perché Wall Street non ama le taglie delle imposte, certo che sono apprezzati, ma perché c'è la preoccupazione, Wall Street non si esprime così, ma c'è la preoccupazione di quanto la Presidenza americana è diventata, o il Presidente degli Stati Uniti è diventata, e rendo conto di quello che sto dicendo, una mina vagante e eventualmente una minaccia alla stabilità del sistema del commercio mondiale e dell'economia mondiale. Il Fondo Monetario, come tutti gli analisti del settore privato, vedono nella presenza di Trump, e questo anche il Fondo Monetario internazionale, vede il danno fatto alla crescita mondiale dalle guerre commerciali lanciate da Trump contro Cina e contro l'Europa. Perché? Perché è chiaro che un atteggiamento protezionista, un atteggiamento anticommercio contro un sistema multilaterale fa rallentare la crescita. È più o meno un fenomeno aritmetico, non concettuale. E quindi Wall Street è contento che ci può essere più equilibrio a Washington. Invece io vedo, se mi chiedete il mio parere, io vedo un periodo nei prossimi due anni, prima del 2020, in cui avremo qualcosa fra guerra e paralisi a Washington. E poi vediamo cosa vuol dire questo anche per l'Europa, fra un attimo. guerra fra Trump e la Camera Democratica, guerra basata sul fatto che sulle prime pagine dei giornali americani stamani c'è una notizia che appena ha chiuso il voto ieri, la prima cosa che Trump ha fatto era di licenziare in tronco il ministro della giustizia Jeff Sessions e mettere al suo posto un pupazzo della destra estrema che si chiama Matt Whitaker, uno di questi commentatori di Fox News che pochi mesi fa è andato su Fox News e ha detto bisogna uccidere Muller, chiudere l'indagine Russiagate, stoppare tutto, ma non c'è bisogno di violare la Costituzione, prima togliamo i vivri, poi l'acqua, così morirà Muller. Perché basta tagliare il budget, non avranno più soldi, non saranno in grado di pagare i stipendi, gli indagatori e Trump sarà libero di questo problema. Questo ovviamente è una situazione che purtroppo ci ricorda di Richard Nixon, di Watergate e di altri scandali in America dove il procuratore che indaga sulla Casa Bianca nel caso di Watergate fu licenziato e quello ha portato l'impeachment di Richard Nixon. Io stamani posso dirvi con alta fiducia, non con piacere, ma con alta fiducia, che nell'arco di un mese, al massimo 60 giorni, nel congresso americano ci saranno le prime proposte di impeachment del Presidente degli Stati Uniti e entreremo in una fase, una lunga agonia che andrà avanti fino al 2020 e questa agonia sarà i democratici nella Camera che indagano, che aprono commissioni di inchiesta, che chiedono a Trump di rendere pubblico le sue denunce di redditi e che propongono impeachment. La Casa Bianca che cerca di bloccare l'indagine è probabilmente Muller, che a un certo punto farà uscire il suo report finale che probabilmente mostrerà che il Presidente degli Stati Uniti sia colpevole di riatti criminali di intralcio alla giustizia con la prova approvata. Questa è la mia previsione, non è molto bella, ma probabilmente è la realtà. Cosa vuol dire tutto questo per l'economia americana e mondiale e quali sono gli effetti? Gli effetti sono collaterali, gli effetti di un'America instabile, un'America che ha un'economia che è stato pompato e gonfiato la crescita attraverso tagli delle imposte di 1.500 miliardi che seduto a Milano uno può dire bene ha fatto deregulation, bene ha lasciato andare sulla crescita del PIL ma come qualcuno italiano potrebbe immaginare quando un Paese altamente indebitato cerca di fare ricorso a spese pubbliche o tagli delle imposte in deficit e aumenta il debito questo alla fine diventa anche per gli Stati Uniti e non solo per questo Paese una boomerang cioè è un modo di farsi del male è un autogol e quindi se vogliamo dire tutto gli effetti delle politiche economiche dell'amministrazione di Trump che sono nel breve termine almeno quelle dell'Italia delle imposte positive probabilmente ci porterà verso la prossima crisi del crollo di Lehman Brothers di 2020 22 23 Trump deve come un giugolieri che tiene i piatti per aria deve tenere la crescita PIL americana almeno a 2,5 3,3 3,5% fra qui e 2020 cercando di farsi rialeggere che potrebbe fare secondo me anche sotto impeachment quindi se volete mia previsione c'è una probabilità che Donald Trump si fa rialeggere nel 2020 sotto impeachment poi a distire questo a contraddire la mia previsione ci sarà solo la questione di che cosa verrà fuori pubblicamente nei prossimi mesi sarà chiassoso sarà minore sarà gigante vedremo in Europa invece è chiaro che c'è una situazione di decrescita o di rallentamento della crescita PIL questo fa parte della congiuntura dal fatto che Brexit esiste secondo me in sé non dovrebbe rallentare la crescita in Europa lì è una questione degli inglesi che si fanno del male da soli però sicuramente come sapete benissimo nel mondo reale l'incertezza politica crea anche dubbi da parte di chi deve fare investimenti come imprenditore per il futuro è ovvio quello in tutto il mondo in Europa se uno avesse visto le fonti tv alle sette stamane o CNBC o Bloomberg tv stamattina avrete visto che le previsioni sono che sono almeno due problemi che l'economia in Europa deve affrontare e che possono rallentare la crescita tre problemi scusami gli effetti della guerra commerciale di Trump l'incertezza legato al Brexit o no Brexit e quello che all'estero si chiama il caso Italy il caso Italy non ci porta più vicino a casa perché alle 11 stamane quando a Bruxelles si annunciano le previsioni di crescita per tutti i membri stati è quasi inevitabile che vedremo che per la Commissione Europea le stime le previsioni di crescita PIL contenuti nel documento economico programmatico per la legge di bilancio sono ritenuti molto ottimiste cioè chi prevede come il governo Salvini scusami Conte il governo Conte ieri ho fatto un tweet che ha spaccato perché ho citato il poco conosciuto presente consiglio italiano che ha annunciato a un intervistatore televisivo che si chiama Giovanni Flores l'altra sera io non voglio commentare sul voto in America perché non voglio influenzare o condizionare il voto in America e io ho tweetato questo non è male visto che ci sono almeno 19 forse 20 o 21 americani in tutta America che hanno mai sentito il nome di Giuseppe Conte però siamo in questa situazione in cui il presente consiglio sembra più un notaio di Salvini e Di Maio che un leader o statista indipendente poi vedremo come si sviluppano le cose ma il vero problema battute a parte è che se come io credo e come sto scrivendo per il mio prossimo libro se io se la situazione è veramente come lo sappiamo lo è che la crescita nel terzo trimestre di questo anno in Italia è stata zero la crescita nel quarto trimestre potete immaginare sarà vicino a zero non è fisiologicamente possibile che le stime del governo italiano di una crescita PIL dell'1,5% nel 2019 sia fattibile ripeto non è fisiologicamente possibile sarebbe un modo di come si può dire invertire le leggi della fisica di Isaac Newton di cambiare la gravità perché per avere 1,5% di crescita sarebbe necessario che da primo gennaio 2019 la crescita PIL nel primo trimestre del 2019 schizzassi a 0,5% da 0,1% o 0% questo non accadrà sarebbe necessario avere una crescita ancora più alto negli altri trimestri del 2019 ma probabilmente con esperti di impresa e HR managers qui non è necessario spiegarvi perché le previsioni del governo italiano non regano c'è invece da chiedere cosa vuol dire per il mondo di lavoro cosa vuol dire per la macroeconomia cosa vuol dire per chi deve pianificare e assumere cosa vuol dire per gli avvocati che devono difendere il diritto del lavoro cioè qual è l'impatto vero e concreto lasciamo dietro gli slogan e parliamo della sostanza dunque se il governo italiano continua a citare Mussolini mi riferisco a un politico italiano che ama dire me ne frego era un'espressione molto amato dal duce nel passato se l'atteggiamento verso l'Europa è me ne frego la risposta dei mercati all'Italia sarà anche noi e quindi andati a qualche paese Italia cioè in altre parole tu non puoi insultare i mercati gli investitori che devono comprare 400 miliardi di obbligazioni di titoli italiani ogni anno che vuol dire oltre un miliardo di euro ogni santo giorno sette giorni su sette se facciamo il calcolo dei 365 giorni non puoi coprire con ingiuria e insulti l'investitore di Norvegia o di California che devono comprare i titoli italiani e pensare che loro sono contenti di comprare i tuoi titoli oppure se fai così allora ti dicono bene il vostro rischio è salito quindi a questo punto chiediamo un spread di 300 punti di 350 di 400 vedremo io vedo un periodo di grande volatilità di oscillazione sullo spread è un tentativo da parte del governo italiano di negare i fatti negare la realtà negare le leggi della fisica e quindi vivere è una specie di mondo che non esiste purtroppo siamo qui sul pianeta terra signori e ogni giorno voi dovete andare al lavoro e cercare di gestire attività importante perché cosa c'è di più importante che scegliere bene chi deve lavorare nelle aziende italiane è la chiave perché la meritocrazia almeno con voi speriamo esiste qui non siamo a Roma della politica siamo a Milano del business e siamo nel mondo reale dove meritocrazia dovrebbe trionfare e la solita raccomandata deve essere minore poi qualcuno al coffee break se volete dirmi dopo no no abbiamo tanti raccomandati anche noi vi ascolto volentieri ma non credo che sia così credo che siete gente seria allora in Italia se le previsioni del PIL sono spagliate vuol dire che il deficit non sarà 2,4% ma più verso 3 2,9 3 3,5% purtroppo tutto andrà molto storto nel 2019 perché anche se il governo dice metteremo un meccanismo automatico automatico troveremo un modo di tagliare le spese l'usciere il presidente del consiglio l'altra sera nel suo discorso in tv ha inventato un nuovo termine che non abbiamo mai sentito prima ha detto noi abbiamo un task force a Palazzo Chigi che chiamiamo taglia forbici io alla mia moglie italiana ero in macchina ascoltando il radio ho detto è una parola taglia forbici non lo conosco taglia forbici taglia o con i forbici e cosa vuol dire un task force taglia forbici credo che è un modo di dire noi non mi chiamo Cotarelli questo non è un spending review è un'altra realtà benissimo usiamo il termine di Giuseppe Conte questo taglia forbici come saprete non può intervenire nei tempi tecnici necessari per rallentare le spese corrente in modo adeguato per invertire la tendenza quindi andiamo verso una situazione non buona il reddito di cittadinanza per me non crea lavoro ma è un'assistenza sociale lo dico uno, due, tre in modo di non soffermarmi troppo su queste cose perché credo siano ovvi a chiunque ha buon senso o conosce l'economia il decreto di dignità ha già mostrato documentato porta più disoccupazione e meno dignità a chi lavora è un dispetto al lavoratore il decreto di dignità se vogliamo essere nazionalista statalista socialista comunista bene ci sono elementi del programma 5 stelle che sono buoni per questo se vogliamo essere nazionalista sovranista e fare guerra contro le leggi della fisica ci sono anche elementi della maggioranza che sono d'accordo anche con un atteggiamento così quindi in poche parole qui rischiamo grosso il lavoro non sarà creato dalla domanda interna perché non è possibile fisicamente inaugurare una legge di bilancio che avrà effetti di stimola a nei tempi giusti anche se la legge di bilancio avessi dei stimoli veri e non solo una miseria di 5 miliardi di aumento di investimenti pubblici che non crea quell'effetto moltiplicatore abbastanza posto di lavoro necessario per fare le differenze e far sentire qualche cambiamento nel 2019 quindi ci sono svariati motivi posso elencare anche la quota 100 che non crea lavoro e infine posso chiudere questa mini analisi ribadendo ma lo sapete già che visto che questo è Italia del 2018 e non l'Unione Sovietica degli anni 50 non c'è un meccanismo automatico in cui se mandiamo la gente in pensione a 62 anni automaticamente entrano come ha detto un ministro o un vice premier l'altro giorno tre nuovi posti di lavoro per ogni pensionato non è possibile poi generare nelle centri di impiego che non funzionano dal primo gennaio tre offerte di lavoro per 6 milioni di persone che ricevono i redditi di un'unità sarebbe 18 milioni di offerte l'anno prossimo se ci fossero 18 milioni di offerte di lavoro non sarebbe necessaria nessuna politica economica perché vorrebbe dire che l'economia fosse molto più robusta di quello che è in tutto questo voi dovete premiare la meritocrazia e spero e credo che è quello che fate il mio lavoro è di non essere così pessimista ma realista e di dirvi a livello mondiale siamo ancora in un periodo di di trumpismo che vuol dire crescita americana nel breve e il resto del mondo ce ne freghiamo questo atteggiamento americano vedi questo me ne frego non è solo Salvini e anche trump forse ci sono tanti mini trump in giro per l'Europa diciamo imitatore e quindi stiamo andando verso un periodo di volatilità di incertezza e di crescita fra 0 e 1% nel 2019 vedremo alle 11 se le previsioni sono 1 e mezzo per cento come dice il povero Giovanni Tria ok le previsioni dell'Europa saranno piuttosto minore fra un mezzo punto percentuale e un punto percentuale per 2019 tutto questo non so non è il modo migliore di cominciare la vostra mattina con Friedman qui pieno di pessimismo e brutta notizia ma volevo essere realista e al di là di questo quello che mi piacerebbe se fa piacere a voi e di sentire i vostri commenti o dedicare 10 minuti a sentire le vostre domande ci sono le persone in platea con microfono e io non ho problemi se volete criticarmi farmi una domanda o fare un commento e io vi ringrazio per il vostro tempo qualcuno rompe il ghiaccio c'è qualcuno che vuol nessuno tutto chiaro mi permetto io magari rompo un attimo il ghiaccio ne approfitto più che altro perché sono già microfonata forse è anche quello che è agevola approfittando anche della tua grande conoscenza ovviamente del mondo americano e di Donald Trump anche perché sei stato uno dei primi a poterlo intervistare e anche insomma analizzare la sua persona un dato che è collegato al mondo del lavoro ieri emergeva spesso dai commentatori questo 3.7% la quota di disoccupazione negli Stati Uniti che è veramente molto molto bassa di ristruttura si pensa a un 3.6 per i prossimi anni ecco questo indicatore tu dicevi attenzione perché è una visione di breve termine però è evidente che insomma una disoccupazione così così bassa vuol dire un'economia anche che può crescere in Italia secondo te alcune delle ciò che è stato fatto da Trump potrebbe essere applicato per ridurre la disoccupazione no ma mi spiego meglio in Italia a mio avviso il modo migliore di parlo di politica economica non parlo del vostro lavoro perché questi sono i signori che devono creare lavoro con meritocrazia spero e cercare talento no a livello macroeconomico il reddito di cittadinanza non ha un effetto moltiplicatore per creare il lavoro la quota 100 è un altro modo di dire stiamo cancellando la riforma fornero e aumentando le spese pubbliche in debito e questo non crea lavoro in Italia per creare il lavoro quando la domanda interna è ancora troppo fievole per generare quella domanda forte che fa arrivare i quattrini alle piccole e medie imprese con introiti che salgono crea la domanda per lavoro e quindi crea la domanda per assunzione l'unico modo di creare il lavoro in una situazione in cui la domanda interna è troppo piccola sono due possibilità uno sarebbe di usare questo deficit se fossi deciso come è deciso di usare un deficit e creare più indebitamento per stimolare la crescita come Trump ha fatto in America ecco il motivo della sua domanda allora spendi tutti quelli 22 miliardi in deficit sulla finanziaria di 37 miliardi non su queste caramelle elettorali questi accontentini che ti portano all'elezione europea di maggio ma invece su altri scravi fiscali e dettassazione copiando il Jobs Act di Renzi e facendo scravi fiscali per donne over 50 over 50 e donne giovani over 50 le tre categorie dove si può stimolare la crescita si dice a questi signori potete assumere le over 50 o le donne o i giovani con dettassazione per tre anni cioè non dovete pagare i contributi per tre anni questo si dice a qualche imprenditore che dice al loro direttore di personale allora possiamo rischiare perché i primi tre anni non abbiamo contributi quindi ci costa meno e poi abbiamo più flessibilità la flessibilità del mercato del lavoro così odiato da quel comunista come si chiama Susanna Camusso o gente di quel genere loro non capiscono e non vogliono capire l'economia qui abbiamo la gente solida che capisce l'economia quindi no o fai investimenti pubblici e scravi fiscali cioè investimenti pubblici avrebbero un moltiplicatore ma se fai investimenti pubblici è un modo di tamponare la situazione per un anno o due non è sostenibile strutturalmente quindi scravi fiscali per le assunzioni è la soluzione numero uno è quello che questo governo non sta facendo quindi non si può paragonare America in Italia America è un'economia molto più grande molto più complessa e ha un debito di 96% del PIL e può permettersi alcune misure che Italia non può ma anche l'America vi giuro purtroppo che questo governo Trump ci porterà alla prossima crisi finanziaria fra entro i prossimi 4-5 anni a livello mondiale e sarà di nuovo l'Italia e l'Europa che forse appena appena sta riuscendo a fare qualche crescita miseria a essere schiacciato di nuovo dopo Trump buon lavoro ecco su questo devo dire sicuramente dobbiamo ovviamente attrezzarci sulla base anche di quello del lavoro che le persone qui fanno se non ci sono altre domande per Alan Friedman lo ringraziamo tantissimo per il suo intervento tra l'altro c'è una qui ah eccola scusate buongiorno dottor Friedman la mia domanda è questa secondo lei l'Italia è la miccia che può far esplodere l'Europa sai che come ti chiami come sono il direttore di risorse umane di Cirfood Stefania Monici siamo visti a giugno è vero è vero ciao la mia domanda ha una base eccoci una chiacchiera ecco la risposta è sì io temo veramente che che la miccia io pensavo di intitolare un libro una volta la miccia addirittura proprio per parlare di come l'Italia potrebbe far scattare la prossima crisi europea io credo che letteralmente conviene a Salvini e Di Maio a portare avanti la guerra contro l'Europa fino a maggio il problema è che questi signori stanno giocando con il nostro futuro e con le nostre vite e se si fa solo demagogia slogan insulti attacchi fino a maggio vuol dire che non ci sarà una politica economica efficace e quindi l'economia soffrirà e non si risolverà nulla e a un certo punto si potrebbe portare avanti una fronte sovranista populista di destra estrema a livello del Parlamento europeo a livello europeo sai come Salvini ama dire ma Moscovici lo mandiamo a casa con Juncker fra sei mesi certamente ci può essere questo risultato è possibilissimo ma non risolvono i problemi veri dell'Italia fa solo danni all'Europa un'altra volta se qualcuno vuol sentire il mio vero parere io credo che i rischi per l'Italia e l'Europa ma anche per il mio paese vanno oltre l'economia e riguardano la nostra concezione di noi stessi siamo persone che abbiamo imparato dalla storia degli ultimi settant'anni della dopoguera vogliamo un'Europa di toleranza vogliamo un mercato libero sappiamo che l'Europa non funziona è una famiglia disfunzionale possiamo riformare l'Europa o vogliamo solo far saltare tutto per me fra qui e maggio la strategia del governo italiano sarà dire siamo impegnati nell'euro e nell'Europa e invece nella realtà lavorare per decostruire la realtà europea l'Europa l'Europa Grazie a tutti.